Buongiorno da Skillab, dove oggi parliamo di assistenti di direzione. E con i quali assistenti di direzione, un ruolo particolarmente complesso, cambiato tantissimo negli ultimi anni, che richiede molte più capacità e competenze, dalla leadership alla buona comunicazione, alla capacità di organizzare. Insomma, un ruolo davvero particolarmente complesso. Dalla loro voce, le sensazioni sul corso che si chiede oggi. Sono molto contenta di aver partecipato a questo corso. Credo di aver acquisito degli spunti per poter migliorare la mia posizione e il mio lavoro. Ok, grazie. Io sono fiera di aver partecipato a questo corso e sento che mi ha dato un grosso aiuto, un grosso supporto per svolgere la mia attività e il mio lavoro quotidiano. C'era qualcuno da questa parte? Sì. Finalmente un corso che ci permette di vedere e gestire le cose da un altro punto di vista. Io ho acquisito la consapevolezza che i gineprai, in cui spesso ci andiamo a infilare, sono creati da noi stessi, quindi con le modalità e le parole possiamo riuscire a creare un percorso positivo. Bene, questo è l'effetto che fa un corso qui in Skillab, pieno di entusiasmo, quindi vi salutiamo e andiamo a terminare il nostro percorso con la consegna dei diplomati. Ciao a tutti! Ciao!